Un pareggio che sta di beffa? Un assetto tattico che sembra aver visto la facilità di corsa di Contei, poi addirittura tre punte sull'1-0, quindi voglia di chiudere, ma alla fine sembra mancare un attimo il mordente in qualche giocatore. Sì, ma pure al primo tempo più volte siamo arrivati in aria, però non c'è stata mai la cattiveria di voler fare gol, perlomeno tirare in porta con l'idea di fare gol, non l'abbiamo mai avuta. Poi ho dato un segnale dalla panchina mettendo un altro attaccante, però evidentemente non l'hanno interpretato in questo modo. E poi ti ripeto, ci può stare un'infortunio, oppure c'è anche l'avversario, l'unico tirare in porta. Però è demerito tutto nostro, perché oggi bisogna dimostrare di voler vincere la partita. Ci siamo troppo accontentati, appena siamo andati in vantaggio, siamo troppo accontentati per tutta la gara, quindi poi questo è quello che bisogna raccontare. Mister, e ora? Ora si fa dura, perché abbiamo creato tutto noi. Sì, sia la partita del 19 dicembre, sia questa qui, voglio dire, c'è più demerito nostro che merito dell'avversario in tutto questo, perché è una squadra che si è trasformata. Eppure nel periodo di vacanze abbiamo lavorato bene, mi aspettavo un'altra prestazione oggi, non ho visto quella cattiveria e c'è da pensarci. Grazie. 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 Grazie.